Ripensare l'orientamento oggi è indispensabile, visto che è indispensabile ripensare la scuola nel suo complesso, affinché i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine vivano al meglio questa esperienza, che è un'esperienza formativa di apprendimento, ma anche la prima esperienza nella quale apprendono con un tirocinio costante la vita democratica. E l'orientamento è tutto, perché parla della relazione con gli adulti con i quali hanno a che fare per tutto il loro percorso scolastico.